Non ci siamo dice Ricci, è partita la finalissima, c'è Cappiano in testa in questo momento ma siamo proprio all'inizio, c'è Bernarda in seconda posizione, poi Borgonovo, abbiamo Samo, poi Borgonovo, vediamo ancora Cappiano in prima posizione, testa a testa tra Borgonovo, Samo e Bernarda, Cappiano ancora in testa, sono 6 cavalli non sono 4 quindi c'è anche più difficoltà adesso a passare, ancora Cappiano in testa, Bernarda segue, Samo indietro Borgonovo, Bernarda sta producendo il massimo ma Cappiano è ancora in testa, Cappiano è ancora in testa, Bernarda sta andando avanti, vediamo se riesce a passare, passa Bernarda, Bernarda passa dietro e Cappiano, serve difficoltà Cappiano, Samo, Samo indietro, ha perduto contatto anche Samo, la Querciolo ormai fuori causa, la Bernarda, la Bernarda, vince, vince la Bernarda